Il turismo e altre sue attività economiche. Allora, primo, su quanto riguarda mani di territorio e turismo, il far capire che la filiera dell'ospitalità in generale, dell'accoglienza, come vogliamo definirla nelle città, nelle città che sono destinazioni turistiche come la nostra, ormai che sto affermando, deve essere completa per dare senso di ospitalità. Quindi va bene che abbiamo le realtà culturali, va bene che abbiamo una realtà gastronomica rilevante, ma va bene poi che tutta la filiera sia completa perché il cliente turista possa godere completamente in modo completo di questa realtà e quindi ne possa poi uscire contento delle emozioni o dell'esperienza di quant'altro possa essere. E questo ritorna poi sulla seconda cosa che è tutte le attività che riguardano, in questo caso l'attività turistica dell'ospitalità, sono oggi un punto di gesto, sono fonte di ottime opportunità di lavoro e soprattutto non richiedono grandi professionalità. Cioè usciamo dalla logica che non ci si improvvisa in nessun mestiere e tanto meglio in questo.